Buon pomeriggio, buon lunedì e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. La CGL di Teramo dell'Abruzzo è nazionale, hanno promosso un incontro all'Università di Teramo sulla fragilità del territorio teramano e sul rilancio delle aree interne. La proposta è quella di creare una piattaforma comune con altre regioni che hanno vissuto la tragedia del terremoto. Il territorio teramano con gli ultimi 20 sismi ci ha mostrato tutta la sua fragilità. 5.280 sfollati su 5.450 totali in Abruzzo, 3.081 edifici privati inagibili su 3.850, 150 scuole evacuate in provincia su 190 complessive in regione. A farne le spese sono soprattutto le aree interne e un dibattito sulla ricostruzione si è aperto all'Università di Teramo durante un convegno organizzato dalla CGL provinciale e dalla CGL nazionale. Il fine è quello di realizzare una piattaforma comune con altre regioni che hanno vissuto la stessa drammatica situazione. Oggi noi quello che vogliamo porre è che bisogna uscire dalla continua emergenza con una programmazione che il territorio deve mettere in campo. Come farla questa cosa? Non la facciamo in maniera automatica, non siamo velleitari, ma pensiamo che comunque dobbiamo cominciare a porre il problema. E per esempio sui diversi temi, le zone interne, la ricostruzione, l'industria di questo territorio, il turismo, i servizi, fare dei specifici tavoli. Oggi noi avanziamo delle proposte per quanto riguarda almeno il territorio di Teramo. I comuni ancora non riescono a pagare le aziende per quanto riguarda lo spazzamento neve del mese di gennaio. Riparte la ricostruzione nelle aree interne? La ricostruzione nelle aree interne riparte perché c'è una normativa e ci sono risorse a disposizione per ricostruire ciò che è stato danneggiato. Quello che non riparte è un nuovo sistema delle aree interne. Quando diciamo fragilità del territorio significa non solo fragilità dell'infrastruttura, ma fragilità di un sistema che è stato smantellato nel corso del tempo. Quei presidi che una volta c'erano nei piccoli paesi e nelle aree di montagna oggi non ci sono più e non sono stati sostituiti da altri sistemi. Su questo dobbiamo un attimo ragionare meglio e quindi in materia sia di infrastrutture ma anche di presidi pubblici o comunque di salvaguardia pubblica che per esempio in caso di emergenza possono funzionare tranquillamente. Ci sarà domani alle 18 il vertice al Mise a Roma sulla vertenza Onewell di Atessa. Tra lavoratori e sindacati c'è amarezza per il trattamento riservato dalla multinazionale americana che non ha ancora risposto alle sollecitazioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni. Vediamo il servizio di Alfredo Primanta. Le manifestazioni di protesta e i tentativi di farvi ascoltare dall'azienda non termineranno certamente con l'incontro di martedì al Ministero dello Sviluppo Economico? Sicuramente presumiamo di no perché chiaramente se ci sarà la garanzia del Ministro comunque bisogna aprire un tavolo. Allora noi dal Ministro perché ci aspettiamo semplicemente che di riportare la questione al centro di un tavolo di trattativa tra noi e l'azienda perché pensiamo che in questi anni, da 25 anni che è piazzato il sito sulla Tessa, non è concepibile avere una pugnalata alle spalle. Oltre al discorso dei dipendenti che siamo 420 famiglie, c'è tutto un discorso di un altro centinaio di famiglie dell'intotto e la cosa è molto grave perché potrebbe essere, se la Onuel dovesse chiudere, potrebbe essere soltanto l'inizio di una fuga di diverse aziende dal territorio e quindi creerà ancora di più povertà. Ma siete aperti? Sia eventualmente una vendita dello stabilimento, una ricollocazione di tutto il personale sotto un'altra proprietà? Sì, l'importante è che si crea ancora lavoro e ci sia la possibilità per le 420 famiglie di avere una vita dignitosa sul territorio. E' chiaro che riconvertire un'azienda a questo livello qua costerà tantissimo e chiaramente bisogna trovare un acquirente degno di tale nome che possa mantenere ancora alto il livello professionale che lo sta vivendo fino all'Espresso. Cronaca adesso, per fortuna tutto è finito senza gravi conseguenze ma poteva essere una tragedia, la lite scoppiata. Ieri sera poco prima della mezzanotte ad Atri, protagonista una coppia residente in un'abitazione del centro storico della città ducale che dopo essere andati tranquillamente a cena al ristorante e rientrati a casa per motivi che i carabinieri non sono stati ancora in grado di ricostruire hanno dato vita ad una cesalite a seguito della quale la donna Fabiola Caleffi, 49 anni di Atri, ha ferrato un coltello da cucina sferrando un fendente all'indirizzo dell'uomo Giuseppe Talamo, 48enne originario di Silvi, che è riuscito a schivare l'arma non riuscendo però ad evitarla del tutto. Talamo è stato colpito al polso destro, ferita che ha reciso un'arteria con conseguente copiosa fuoriuscita di sangue. Le urla hanno attirato l'attenzione dei vicini di casa che hanno allertato subito i carabinieri. Gli uomini dell'arma hanno arrestato la donna con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate ed hanno sequestrato il grosso coltello. La vittima è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso e successivamente dimessa con una prognosi di 15 giorni. Invece Fabiola Caleffi, in evidente, è stato confusionale, è stata accompagnata in ospedale per poi proseguire alla volta del carcere terramano di Castrogno. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di nazionalità romena nella notte tra sabato e domenica. I finanzieri durante un controllo hanno chiesto all'uomo le generalità, lui però è fuggito e dopo una colluttazione nella quale il finanziere è rimasto ferito è stato arrestato. In casa aveva droga, materiale per il confezionamento e 2.000 euro in contanti. Daniela Rosone. Un normale controllo culminato con un arresto e con un finanziario uscito malconcio dalla colluttazione con un rumeno è accaduto all'Aquila nella notte tra sabato e domenica quando in manette è finito un uomo di nazionalità romena finito in carcere al termine di un inseguimento. I finanzieri sabato notte nei pressi di Via Leonardo da Vinci dove si trova anche il palazzo della regione, durante un normale controllo hanno fermato due persone ritenute sospette evidentemente. Una terza persona che si era avvicinata e alla quale i militari hanno chiesto i documenti per poterlo identificare, a seguito della richiesta, si è data precipitosamente alla fuga. I finanzieri lo hanno inseguito e bloccato ma ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei finanziari coinvolti è rimasto anche ferito e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del capoluogo di regione. Dopo l'arresto, la casa dove vive l'uomo in città è stata perquisita dalle fiamme gialle. I finanzieri hanno rinvenuto 100 grammi circa di cocaina, nascosti in un involucro, altri 300 grammi di sostanza stupefacente utilizzata per il taglio della droga, insieme a tutto l'occorrente per il confezionamento, compreso il bilancino di precisione. Sequestrati anche 2000 euro in contanti e un telefono cellulare, che ora è chiaramente al vaglio degli inquirenti per risalire anche al giro di stupefacenti in cui l'uomo arrestato è coinvolto. Rimaniamo all'Aquila adesso perché il sindaco Pierluigi Biondi rompe nel dibattito sui lavoratori ripam che operano nella ricostruzione e in una lettera svelata dal quotidiano Newstown spiega che non accetterà nessuna soluzione che non sia definitiva. Si profila dunque uno scontro politico con la senatrice Dem Stefania Pezzopane. Vediamo. Sulla questione del personale ripam fondamentale per gestire la ricostruzione, il sindaco Biondi è chiaro, anzi chiarissimo. Non si accetteranno soluzioni provvisorie. Il quotidiano Newstown svela infatti una missiva del sindaco Biondi che interviene sulla questione. Il riferimento potrebbe anche essere politico sulla vicenda, infatti è intervenuta nei giorni scorsi la senatrice del PD Stefania Pezzopane per prorogare la scadenza al 2021, ma i lavoratori non ci stanno anche perché, lo ricordiamo, sono assunti a tempo indeterminato e hanno minacciato azioni eclatanti di protesta non per punire i cittadini, sia chiaro, ma per dimostrare quanto sia essenziale il loro lavoro. Una bufera che poi ha costretto la Pezzopane a chiarire che la proposta è ovviamente propedeudica a una soluzione definitiva. Parliamo, lo ricordiamo, di 300 lavoratori, di cui 128 impiegati dal comune dell'Aquila, 72 dai comuni del cratere, fondamentale, come dicevamo, per i processi di ricostruzione. Ma il sindaco Pierluigi Biondi, come dicevamo, mette un diktat sulla questione e lo fa attraverso una lettera del 12 ottobre, come ricorda Newstown. Nella lettera il sindaco spiega che la maggioranza ha istituito un tavolo tecnico che ha elaborato una serie di norme da proporre per dare a questi lavoratori una soluzione definitiva e non le solite proroghe. Queste norme, dice il sindaco, nella lettera sono state illustrate nel tavolo tecnico regionale e prevedono per il personale Ripam il superamento definitivo del 2021. Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato degli uffici speciali e il personale ex OPCM, che da anni presta servizio presso il comune dell'Aquila e i comuni del cratere, è stata richiesta la possibilità di avviare un percorso di stabilizzazione ai sensi della recente normativa attraverso il finanziamento di fondi statali. Biondi dice anche nella lettera che le proposte normative sono state portate all'attenzione anche dei rappresentanti dell'opposizione che siedono in Parlamento e che si sono impegnati a sostenerle politicamente. Biondi, rivolgendosi a dirigenti e dipendenti, scrive ancora voglio rassicurare tutti sul fatto che il comune dell'Aquila ha già proposte e sosterrà unicamente soluzioni definitive che consentano di eliminare ogni incertezza sulla situazione lavorativa e non aderirà mai a soluzioni che mirano soltanto a posticipare il problema con l'unico effetto di aggravarlo ulteriormente. Una presa di posizione netta, dicevamo, che apre anche una partita politica che sicuramente si giocherà a Roma nei palazzi grandi. La Regione si impegna a stanziare fondi e un programma di aiuti per il finanziamento del bando regionale Caregiver 2017 a favore dei familiari dei minori in età pediatrica afflitti da malattie rare. Fra due settimane ci sarà un nuovo incontro fra le parti. Vediamo. Stamattina abbiamo avuto un incontro dove sono stati comunque affrontati due aspetti. Il primo è riguardo i fondi Caregiver, cioè i fondi rivolti alle famiglie affetti da disabilità pediatrica gravissime e in più il reparto di terapia subintensiva pediatrica che è concluso, come si può vedere anche sulla pagina Facebook Progetto Noemi, ma che ad oggi è ancora chiuso. Noi siamo stati in Regione affinché le promesse venissero onorate perché sono comunque degli argomenti già affrontati sia a maggio per quanto riguarda il Caregiver che erano state promesse risorse per 280 mila euro, e sia la terapia subintensiva. Nell'incontro purtroppo non era presente il governatore D'Alfonso, più Silvio Paolucci e il dottor Muraglia, quindi si è convenuti comunque affrontare le problematiche in oggetto. Entro il 23 ottobre, il primo di novembre, ci incontreremo affinché siano date delle soluzioni. Credo che non c'è più nulla da affrontare, ma è ormai arrivato il punto di dare concretamente la soluzione, cioè la copertura finanziaria del bando e l'apertura del reparto. Per il reparto che cosa manca? Perché non viene aperto? Su quanto riguarda il reparto ovviamente la struttura è pronta. Ora bisogna intervenire evidentemente sull'organico, sull'equip che prenderà parte. Comunque ci stanno lavorando, l'Asri di Pescara dovrà intervenire facendo un progetto finalizzato affinché si possa dare la giusta assistenza ai piccoli bambini. Ovviamente sono state spese risorse importanti, fondi comunque pubblici, nel quale ora sono tutti lì concretamente, sia ai macchinari che si può vedere la ristrutturazione, perché era inesistente, era un'area della pediatria che c'erano degli studi, quindi è stato creato ad hoc e ovviamente queste risorse ora devono cominciare ad essere operative. Andiamo a Pescara adesso, taglio del nastro questa mattina del centro polifunzionale San Silvestro, una struttura che dovrà rappresentare un punto di riferimento per i residenti del quartiere collinare del capoluogo adriatico. Il centro è stato intitolato al pedagogista pescarese Nando Filograsso. Vediamo. Diventa realtà il centro polifunzionale di San Silvestro, Blasioli, un iter iniziato, avviato nel 2005 e oggi è arrivato finalmente a completamento. Sì, intanto una giornata di festa perché riusciamo a dare ad un quartiere importante di Pescara come quello di San Silvestro un luogo di aggregazione. Il centro polifunzionale significherà che la mattina sarà a disposizione della scuola che è qui magistralmente diretta dalla dottoressa Grillantini e poi il pomeriggio invece saranno 450 metri quadri a disposizione della parrocchia, delle associazioni del luogo e anche di associazioni che sono fuori da San Silvestro. È importante perché è un percorso molto atteso, parte nel 2005 con la prima amministrazione di Alfonso i primi 200 mila euro, poi ancora sempre nel 2005 altri 300 mila euro e nel 2013 350 mila euro. Poi come siamo arrivati noi come amministrazione abbiamo terminato quei lavori che erano già stati programmati, abbiamo eseguito proprio nei giorni scorsi la rete di collegamento dell'Enel, 160 metri di scavo e poi questo bel piazzale che c'è qui fuori e adesso siamo pronti a inaugurare questo centro che si chiamerà, sarà intitolato a Nando Filograsso, un famoso pedagogista pescarese morto qualche anno fa ma soprattutto un centro dedicato a una persona che era di San Silvestro, viveva qui Nando Filograsso e questo a noi ci fa ancora più piacere. È un quartiere quello di San Silvestro speciale, un quartiere animato, popolato da persone molto attenti all'educazione dei loro figli e quindi molto attenti alle esigenze della scuola. Essere qui questa mattina e poter godere di questo spazio che almeno consentirà delle attività motorie in un ambiente consono è importantissimo, è importantissimo che possa ospitare la biblioteca di San Silvestro ed è ancora più importante la certezza che a breve partiranno questi lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico che pur se comporteranno dei disagi nell'immediato per lo spostamento degli alunni rappresentano comunque una tappa importantissima per la sicurezza di tutti i nostri utenti. Si aprirà il prossimo 22 ottobre la 39esima stagione dei concerti della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli a Teramo. Abbonamenti già in vendita da oggi nella sede sociale mentre da lunedì sarà possibile anche in altri punti che saranno comunicati dalla stessa Riccitelli. Vediamo. Torna all'appuntamento con la rassegna musicale che ha dato il via all'attività della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Con la 39esima stagione dei concerti fiora l'occhiello delle iniziative culturali di Teramo. Le novità innanzitutto il numero dei concerti sono tanti, sono 16 concerti più il concerto di inaugurazione. Poi la caratteristica è quella che tutti i concerti che si terranno di sabato e di domenica si terranno alle ore 18. È la prima volta che i concerti in stagione si terranno in un orario pomeridiano ma questo ci è stato chiesto proprio esplicitamente dai nostri abbonati. È una stagione varia, una stagione aperta, aperta ai giovani, ai giovanissimi ma anche ai grandi interpreti a cominciare appunto dal concerto di inaugurazione il prossimo 22 ottobre con Rami in Barami. Ci saranno anche delle caratteristiche particolari quest'anno? Una commissione forse anche tra diversi generi artistici. Diversi generi artistici per così dire non sarà un cartellone proprio di musica, solamente di musica classica. Ci sono alcuni appuntamenti di musica jazz molto importanti come ad esempio il concerto di Fabio Concato con Paolo Di Sabatino che sappiamo sta avendo tantissimo successo in tutta Italia. Oppure abbiamo il gruppo giovanile l'orchestra New Talent Jazz Orchestra che è l'orchestra di giovani dell'Accademia di Santa Cecilia. Abbiamo il bellissimo concerto di Battista e Niki Nicolai con Henry De Luca. Quindi sono degli appuntamenti particolari che vanno appunto a unirsi appuntamenti per così dire di musica classica naturalmente come l'orchestra nazionale di Kiev. Tanti altri appuntamenti che sicuramente il nostro pubblico saprà riconoscere come eventi come sempre di qualità. La società concertistica Baratelli inaugura la stagione 2017-2018 con il violinista Fabio Biondi eseguendo sei concerti di Bach e facendo il punto sui prossimi concerti. 40 gli appuntamenti che si snoderanno tra ottobre e maggio alla presenza di prestigiosi ospiti internazionali. Un repertorio barocco scelto dalla società aquilana dei concerti Baratelli nella giornata inaugurale domenica 15 ottobre con l'esecuzione integrale dei sei concerti brande borghesi di Bach eseguiti dall'eclettico e virtuoso violino di Fabio Biondi, uno dei massimi interpreti italiani conosciuti nel mondo, per la qualità e il coraggio di alcune scelte esecutive e lo studio della prassi antica e medievale su strumenti originali. Abbiamo anche presenti quest'anno tre appuntamenti di quello che è il Reading Concert, cioè questa sorta di concerto recitato che vedrà presenti tre nomi importanti del teatro, uno straordinario concerto che prevederà l'esecuzione della grande sonata opera 106 di Beethoven che manca all'abile addirittura da vent'anni. 72esima edizione ininterrotta per la Baratelli che dal 1946 intrattiene il pubblico aquilano dall'autunno alla primavera. 40 gli appuntamenti che si snoderanno nel corso della stagione, che quest'anno prevede anche appuntamenti infrasettimanali nella serata del giovedì dedicata a un pubblico più giovane. Abbiamo anche una finestra jazz molto molto importante che vedrà il grande Stefano Bollani in questo progetto Napoli Trip, poi il Verdi Jazz Ensemble del Conservatorio di Milano nell'ambito del progetto Music Live dell'ISMETS. 72esima edizione ininterrotta per la Baratelli che dal 1946 intrattiene il pubblico aquilano dall'autunno alla primavera. 40 gli appuntamenti che si snoderanno nel corso della stagione, che quest'anno prevede anche appuntamenti infrasettimanali nella serata del giovedì dedicata ad un pubblico più giovane, con la consolidata presenza di artisti di fama internazionale. Tra i grandi ospiti c'è anche la cantante israeliana Noah. È una delle personalità più importanti, è una delle testimonial anche proprio della situazione, della condizione della donna nell'Oriente ed è una delle cantanti, è l'unica cantante espressamente, volutamente invitata da Francesco, Papa Francesco, alla giornata mondiale della gioventù che si è truta in Polonia lo scorso anno. Ospite sabato prossimo allo stadio Adriatico Cornacchia. Tra le note più liete del Tardini la buona prova di Leonardo Mancuso, partito per la prima volta da titolare, autore anche dell'assist per il gol partita di Gaston Brugman. Ai nostri microfoni la soddisfazione dell'attaccante biancazzurro che si è lasciato alle spalle, è anche un fastidioso infortunio muscolare. Lo ascoltiamo. È stato un mese dove star fuori non è mai bello, in più comunque era un'esperienza nuova per me, quindi ci tenevo subito a partire, però è stata un'esperienza anche questa perché non avevo mai avuto un problema muscolare così, quindi credo che anche da questa esperienza si possa sicuramente migliorare, imparare qualcosa. È stato un mese di lavoro dove ho visto i miei fanno impegnarsi tutti i giorni e credo che stiamo migliorando, ma di strada a fare ne abbiamo ancora veramente tante. Si è andato anche vicino al gol, tra l'altro sempre presente nel vivo delle azioni e soprattutto artefice del gol di Brugman, tre quarti della rete del giocatore uruguayano, porta la tua firma. Sì, sono giocate che proviamo spesso in allenamento e sono contento che siano venuti fuori, è chiaro che in quei momenti lì hai due scelte e devi essere bravo a prendere quella migliore e credo che... Si è stato anche altruista. Esatto, credo che è stata la scelta migliore che potevo fare perché Gas Brugman ha spinto dentro il pallone, quindi quello era l'importante. Ci tenevamo, ci tenevamo per noi, perché stiamo lavorando e ci tenevamo anche per i tifosi e come hai detto tu oggi ci hanno seguito, quindi è stata una vittoria molto molto importante per noi. Mancuso si candida di una maglia da titolare anche nel prossimo turno all'Adriatico con l'Avellino. Io mi alleno tutta la settimana al massimo, poi le scelte le fa l'allenatore, le fa il mister, quindi darò tutto me stesso in ogni situazione in cui vengo chiamato in causa. In Serie C il Teramo tornerà invece a lavorare domani pomeriggio dopo la vittoria di sabato contro il Padova. Segno oltre a Kevin Varas anche Carlo Ilari che sottolinea l'importanza dei tre punti contro una big, soprattutto in vista del doppio scontro diretto esterno contro Sant'Arcangelo e Albino Ler. Vediamo. Ci volevano questi tre punti perché sapevamo di essere in una condizione non buonissima nonostante le ottime prestazioni. Sono tre punti importanti che ci fanno pensare positivo e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Oggi sicuramente siamo stati più bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e dobbiamo continuare a lavorare così e continuare a macinare i chilometri come abbiamo fatto oggi. Sapendo la loro forza, quelle poche occasioni che ti concedono devi essere bravissimo a sfruttarle. Siamo stati veramente bravi e faccio i complimenti veramente a tutti perché abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto quando siamo andati in vantaggio, poi c'era da difendere, loro hanno messo in campo tutti i loro giocatori offensivi e siamo stati veramente bravi a non concedergli veramente poco. C'è da fare veramente i complimenti a tutti. Purtroppo siamo andati sotto, ci sta però, ci sta, è una squadra forte, sapevamo di incontrare tante difficoltà. L'importante è saper reagire, oggi l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto anche altre volte e questo è un fattore sicuramente molto, molto positivo. È stata un'azione confusa, poi la palla è finita a Speranza che di testa so che è molto bravo quindi riesce a spizzarla come per esempio nell'ultima gara. Mi sono messo dietro a lui, per fortuna la palla è arrivata perfetta, mi sono girato e ho cercato subito la porta e sono molto contento che sia andata così e soprattutto che abbiamo conquistato i tre punti. Giornata in Serie D che riviviamo con i nostri servizi. Il Pineto pareggia, non senza un filo di polemica, in casa contro la Sangiustese. Vittoria invece per la Vastese alla Ragona in rimonta contro il Monticelli. Tutto facile invece a Re Canati per il Francavilla di Erbese che passa al Tubaldi. 0 a 2 i servizi della giornata. È un boccone amaro da mandar giù per un volenteroso Pineto il pareggio che matura al termine dei 94 minuti contro la neopromossa Sangiustese. La squadra di Amaolo crea una gran mole di gioco senza riuscire però a concretizzarla e si ritrova a dover inseguire nel finale. Sono vibranti le proteste locali per un calcio di rigore che i padroni di casa chiedono a gran voce. Ma andiamo con ordine. Amaolo tiene in panchina Esposito, arretra Mariani sulla mediana e inserisce Bisegna sulla tre quarti dal primo minuto. Senigalliesi sceglie Pronsmans e perfetti in mediana mentre Laringe, Camillucci e Cheddira supportano l'ex di giornata Antenucci. Pronti via e subito un episodio da Moviola in area marchigiana con Pepe che va a terra e i locali che chiedono il penalty. Ma il direttore di gara Gioviani di Termoli fa proseguire. I biancazzurri subito incisivi nei primi minuti sfiorano il vantaggio al decimo con un lampo di Pezzotti che dalla sinistra calcia direttamente in porta chiamando Chiodini alla respinta. Tre minuti più tardi ancora Pezzotti questa volta mette al centro per Bisegna che però viene anticipato. Ma l'occasione più ghiotta per passare in vantaggio è quella che capita sui piedi di Gragnoli al quattordicesimo. Abile ad intercettare la corta respinta di Chiodini su Bisegna con la sfera che però sfiora il palo e termina sul fondo. Il Pineto fa la partita, la sanzustese è più attendista. Al trentacinquesimo Bisegna conquista un buon calcio di punizione e lascia la battuta al compagno di squadra Pezzotti che spedisce poco oltre la traversa. La sanzustese lotta a centrocampo ma non riesce a portare i grossi pericoli alla porta di Giacchetta. Al trentanovesimo Perfetti si inserisce e fa partire un diagonale che potrebbe diventare un cross per Antenucci ma il centroavanti non se ne avvede e la sfera scivola sul fondo. Il primo tempo termina così sul parziale di 0 a 0. Al diciassettesimo della ripresa l'episodio che sblocca la partita in favore degli ospiti. La ringe si inserisce in aria e subisce il fallo di Della Quercia. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Camillucci non sbaglia superando Giacchetta per l'1 a 0 in favore degli ospiti. Nell'occasione viene ammonito pomante per proteste. Sul capovolgimento di fronte il neo entrato Battista fa partire però un tiro cross che viene intercettato con un braccio da Pronsmans. Intervento che l'arbitro giudica questa volta involontario scatenando le vibranti proteste locali. Al ventiquattresimo la sanzustese approfitta del momento di sbandamento e prova a mettere in difficoltà il fineto con Cheddira ma Giacchetta si fa trovare pronto. E' solo un lampo però perché la formazione di casa riprende ben presto le redini della partita e continua a spingere in avanti alla ricerca del pari. Un Battista inseritosi benissimo sulla destra alla mezz'ora piazza un cross sul palo opposto per la testa di Gragnoli ma la sfera termina alta. Su un'azione fotocopia un minuto più tardi però arriva il meritato pareggio locale. A raccogliere il traversone di Battista questa volta è Bisegna che in tuffo anticipa tutti e fa 1 a 1. Ora il Pineto vuole l'intera posta e spinge sull'acceleratore. Al 35esimo però Battista in corsa non riesce a centrare lo specchio mentre tre minuti più tardi sul suo traversone nessuno riesce a trovare la deviazione vincente. L'ultima occasione è Perzane che dalla distanza costringe Chiodini a rifugiarsi in corner. Nonostante la gran mole di gioco il Pineto non riesce così ad andare oltre l'1 a 1 con una sanzustese parsa meno brillante rispetto alle uscite precedenti. A fine gara è polemica sull'operato della Terna con il direttore del Pineto Gianmarino che si spoga per un arbitraggio giudicato non all'altezza. Dopo due vittorie di fila la vastese piazza il Tris battendo all'Aragona in rimonta anche il Monticelli grazie ad un ottimo secondo tempo. Per i Biancorossi è un successo importante a testimonianza dell'ottimo momento di forma della formazione biancorossa che inizia a far sognare i propri tifosi. Avvio di gara soft con le due squadre a controllarsi senza riuscire mai ad affondare e superare le rispettive difese. Bisogna così attendere il ventitresimo quando Iacchini per gli ospiti in area abruzzese mette la palla alle stelle. La risposta dei locali è affidata al ventottesimo a Stivaletta che dai 25 metri non inquadra però lo specchio della porta. Al trentanovesimo Leonetti fallisce poi la più facile delle occasioni sbagliando un gol praticamente già fatto sulla linea di porta dopo un ottimo servizio di Cristaldi. Tutto qui il primo tempo con le due formazioni che tornano così negli spogliatoi sul risultato di parità e senza reti. La ripresa si apre con Casciani al posto di De Chiara nella formazione abruzzese ma soprattutto con una botta e risposta tra il nono ed il decimo minuto a trovare il gol del vantaggio e la squadra scolana con Pretarulo che approfitta di una ingenuità della difesa di casa andando poi a mettere il pallone nell'angolino alle spalle di Camerlengo. Neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio della vastese con Leonetti che di testa in sacca per l'uno a uno riscattando così l'errore del primo tempo. La squadra di Gianluca Colavitto ci crede e al quarto d'ora è fiore dopo una buona azione personale a concludere però centralmente fra le braccia dell'estremo marchigiano. Al diciannovesimo i tifosi di casa per due volte gridano al gol ma i legni della porta del Monticelli dicono no primo al colpo di testa di De Feo e qualche istante dopo all'incornata di Leonetti. Si disperano sugli spalti i tifosi di casa con la vastese ora però costantemente all'attacco. Formazione di casa che spinge senza soluzione di continuità e con la formazione marchigiana che si salva ancora al venticinquesimo con Marani che respinge una conclusione insidiosa di fiore. Gli attacchi dei padroni di casa assumono i toni di un vero e proprio assedio con i biancazzurri ospiti a difesa della loro metà campo e così frutti di tanto attaccare arrivano per la vastese al 34esimo quando Bittai è da poco entrato in campo al posto di Stivaletta. Si guadagna un calcio di rigore che viene poi trasformato da Cristaldi per il 2-1 locale ed il sorpasso nel punteggio. Si arriva così ai minuti finali che vedono al 39esimo anche l'espulsione per doppio giallo di De Feo e gli assalti confusi De Martigiani con la vastese che seppur in 10 uomini al 45esimo per due volte con Bittai fallisce la rete del 3-1 prima con il giocatore di casa che tira addosso a Marani e poi con una conclusione alta dell'avanti bianco-rosso su perfetto servizio di Lucciarini. Poi il triplice fischio finale di Robilotta di Sala Consilina e la festa degli abruzzesi sotto la curva d'Avalos per un successo che proietta la squadra di casa nelle zone alte della classifica e domenica prossima i bianco-rossi del presidente Bolami saranno di scena sul campo della corazzata Vispesaro. Un vero e proprio esame di maturità per gli aragonesi che potrà dire tanto sulle ambizioni dell'undici di Gianluca Colavitto che può essere comunque soddisfatto della sua squadra. Il Francavilla dà continuità al successo in Coppa Italia contro la vastese, batte 2-0 al Tubaldi una recanatesi inesistente e si mette alle spalle le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro Campobasso e Castelfidardo. Iervese conferma il 3-5-2 visto in Coppa facendo di necessità virtù a fronte della lunga lista di infortunati a cui tra l'altro si aggiunge anche Dipenti ma a gara in corso. I giallorossi hanno il merito in una prima frazione complessivamente soporifera di essere concreti. Ci pensa Mancini dopo due minuti a portare avanti la squadra di Iervese approfittando di una corta respinta di Maraglino dopo un tiro di zerbo per piazzare il pallone alle spalle del portiere di casa. Passa qualche minuto ed è Romeo dagli sviluppi di un angolo a saltare più in alto di tutti per siglare il raddoppio del Francavilla. La recanatese sembra incapace di reagire e al dodicesimo rischia di subire il tris ma questa volta Romeo non inquadra lo specchio della porta. Per i leopardiani di casa è una prima frazione di grande difficoltà. L'unica occasione degna di nota, se così si può chiamare, è un tiro dalla distanza di De Luca che finisce molto lontano dallo specchio della porta difesa da spacca. La ripresa sembra inizialmente più vivace. La recanatese trova una buona fluidità di manovra soprattutto allargando sulle fasce. Al settimo colonna prova dagli sviluppi di un angolo ad indirizzare il pallone verso la porta del Francavilla ma senza fortuna. Prima di lasciare il campo al rientrante Galli è zerbo a provarci su una ripartenza. L'attaccante giallorosso vede Maraglino fuori dei pali e prova a beffarlo con un pallonetto calibrato però male. La buona veda dei padroni di casa si spegne presto lasciando alla squadra di Iervese un agevole controllo del match. Anzi è proprio il Francavilla sul finale di gara ad andare più volte vicino al Triss. Poco dopo la mezz'ora è l'estremo di casa a dire no a San Severino. Due minuti più tardi è ancora Maraglino protagonista alzando in angolo un tentativo di fiori di testa. Dai successivi sviluppi il solito Romeo non inquadra la porta. La re canatese scompare definitivamente e prima di poter gioire il Francavilla ha ancora un paio di occasioni per segnare. È Silvestri il protagonista ma prima indirizza alto dai 20 metri e poi in ripartenza si fa ipnotizzare da Maraglino che gli nega una rete che sembrava facile e che ferma poi anche il successivo tentativo di depinto. Dopo qualche scambio di vedute tra le due squadre a gara finita il Francavilla può esultare per i tre punti ritrovati e dovrà adesso provare a sfatare domenica prossima contro l'Aquila la maledizione in campionato del Valle Anzuca. E questo era anche il nostro ultimo servizio e l'ATG6 torna questa sera puntuale all'ora 19. Grazie per averci scelto e buon proseguimento di giornata. Grazie per averci scelto e buon proseguimento di giornata.